io veramente non so come spiegarti la situazione è troppo strana ma è appunto capito ma perché sta tizia è proprio strana aspetta, buonasera tu che vuoi buonasera? per me è una pigga una pigga? una pigga è una stastra un biaggio no, un biaggio un triscio, due lisci e se pure qualcosa non c'è due strizzarelle per favore due strizzarelle giusto la mette sotto i denti così si mette anche l'uncina e la strasca non ci dà lo stomaco giusto un po' di mintola ma proprio appena che si sente quindi si è come un troppo appena appena un po' di mintola ma non troppo soltanto un po' di mintola ci stava dicendo era una cosa strana perché capito questa qua che si è messa a parlare a un certo punto in Norvigese mentre stava in campola capito? vuoi parlare di me? ma non era Norvigese era proprio di qua ma faceva una parte strana poi era pure un altro qua non ci sta non ci sta però magari se volete ci possiamo fare una parte a Biggerdino c'è una parte a Biggerdino c'è una parte a Biggerdino grandissima idea va bene va bene andiamo di là andiamo di là grazie 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 telebiea la tv che non sa come soddisfare le donne grazie 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 grazie